Si conclude un anno amaro per gli ormai ex lavoratori dello zuccherificio del Molise. La lettera di licenziamento, la procedura di mobilità, ma soprattutto una grande incertezza per il futuro. Un presidio che continua, quello allestito da mesi davanti ai cancelli dello stabilimento. Un appello alla politica a tutti i livelli per trovare soluzioni concrete, opportunità di reinserimento lavorativo. Tutto ancora da capire e verificare, oltre le misure di accompagnamento al reddito. Tra le ipotesi spunta quella di costituire una cooperativa per rimettere in moto la fabbrica e rilanciare il settore. Un'idea ancora in una fase embrionale, sottoposta ai lavoratori da Domenico Calleo, presidente di Conf Cooperative Molise, che ha incontrato le maestranze insieme all'imprenditore Natalino Stocco. L'idea è quella di rilanciare la feriera attraverso una forma di socializzazione, dove gli operai diventeranno i protagonisti della feriera attraverso una rete di cooperative, che logicamente convergerà eventualmente i bieticoltori nella fase produttiva e poi tutti i lavoratori che possono riguardare la trasformazione del prodotto, la logistica, i servizi e il trasporto. Però, ripeto, è un discorso che deve essere approfondito attraverso il nostro studio che ci porterà a dati oggettivi. Parliamo, logicamente, di un'idea progettuale. Dobbiamo verificare i prodotti che potremo eventualmente realizzare. Può darsi pure che alla fine dello studio verrà fuori che lo zucchero non è un prodotto purtroppo più competitivo e dobbiamo andare in altre direzioni. Le risorse? Le risorse le possiamo attingere sicuramente dall'area di crisi non complessa. Ci sarà il PSR, ci saranno i contratti di filiera, i bandi usciranno intorno a febbraio-marzo, per cui abbiamo tutte le condizioni per offrire loro un'eventuale possibilità di rilancio di fila. E oltretutto abbiamo il nostro sistema bancario che finanzierebbe poi l'acuta parte che la cooperativa dovrebbe investire. All'orizzonte ci sono l'asta per la vendita dei soli beni mobili, ma anche ipotesi di rilancio le cosiddette politiche attive. Sono fiducioso perché noi dovremmo cercare sempre di valorizzare quello che il Molise ha avuto in questi anni. Non dimentichiamo che insieme alla fila dello zucchero abbiamo anche la filiera del tessile, la filiera dell'avicolo. Sono settori che pian piano dobbiamo rilanciare. Quell'avicolo a breve ripartirà. Amadori ha acquistato i beni e ha presentato già una bozza di piano industriale al Ministero. Sul tessile ci stiamo lavorando perché rappresentano comunque il passato e secondo me anche il futuro dell'economia regionale. Ci dobbiamo credere. Io credo che la forma cooperativa dove il socio diventa responsabile del proprio futuro può essere la formula vincente. I lavoratori hanno ascoltato l'ipotesi progettuale e si sono riservati di esprimere una decisione. Serve un piano stilato nero su bianco che possa davvero dare forma al rilancio dell'impianto attraverso la formula della cooperativa.